Buonasera a tutti dal campo di allenamento del bus 81, siamo con uno dei protagonisti di domenica, ciao Alberto, Alberto Sorrentino Ciao, buonasera a tutti Alberto, gol pesanti, tu hai quello di Verbano che è valso forse la consapevolezza di quello che poi ad Alzate abbiamo fatto Raccontaci, c'è loro un attimino il gol di Alzate Gol di Alzate, siamo partiti molto bene, vediamo che dietro loro soffrivano un po' i nostri attaccanti e il gol è nato da una punizione Io come al solito ho fatto l'inserimento dal secondo palo, la loro difesa è rimasta un po' alta e hanno approfittato La palla praticamente è arrivata addosso, è deviata in praga Raccontaci anche come, ovviamente questa è una bella settimana per una squadra di calcio Però comunque dall'alto della tua esperienza, qualcosa magari da dire a tutti questi ragazzi più giovani per cercare di portare a termine questa stagione No, a noi fino adesso ci siamo comportati bene, anche noi abbiamo fatto qualche scivolore ma come giusto che sia siamo una squadra giovane Adesso ci ritroviamo qua a più 5 e niente, solamente continuare così, non abbassare la concentrazione E cercare di proporre sempre il gioco che ci chiede il ministro che prendiamo un'altra settimana E vedere come va, sicuramente se continuiamo in questa maniera potremmo tenerci qualche soddisfazione E allora diamo appuntamento a tutti i nostri sostenitori domenica pomeriggio ad Oggiate dove faremo il nuovo campo Ciao a tutti, a domenica Grazie Ciao